Ripartire da Terni dove l'anno scorso un blitz per 2 a 0 nei primi turni rappresentò la sterzata verso un campionato da record per dare un sapore diverso al torneo. È la missione del Monopoli che avvierà il suo 2021 sul campo di una Ternana che guida il gruppo C e che sin qui ha lasciato per strada solo 8 punti su 48. Mr. Beppe Scienza prepara la gara dei liberati con un occhio all'infermeria. Abbiamo ancora fuori Antonacci, abbiamo fuori Nina, abbiamo fuori Rimoli, abbiamo disponibili Montero e Bastrini e un paio di giocatori che li valuteremo domani nella rifinitura mattutina. Al momento abbiamo qualche punto interrogativo, qualche nodo da sciogliere. In gruppo ci sono però tre volti nuovi, il difensore Cristian Riggio arrivato dal Catanzaro, il laterale Michele Currarino prelevato da Lentella e il centravanti Edoardo Soleri, prima parte di stagione al Padova. Non è escluso un posto tra i titolari per almeno uno dei tre. Hanno alzato la qualità fisica e tecnica della squadra, sono contento. È chiaro che purtroppo era sotto gli occhi di tutti, che c'era l'urgenza di sistemare un po' tutti i reparti. Si sono presentati tutti e tre con molto entusiasmo, sono tre giocatori che hanno alzato la qualità della squadra assolutamente. È chiaro che anche loro è tanto che non giocano, quindi non è semplice condizionarli così velocemente, però credo che qualcuno di loro possa già essere chiamato in causa subito. Gennaio è il mese del mercato, non sono da escludere a DI, il primo Arlotti è stato formalizzato e scienza ha un messaggio per i naviganti. Chi non vuol più stare a Monopoli è giusto che vada via, che lo dica, perché gli scontenti ci sono dappertutto. Basta che lo dicano in modo che la società possa prevenire certi malumori, che non abbiamo bisogno di rottura di scatola in questo momento. A distanziare Monopoli e Ternana oggi ci sono 24 punti in favore degli Umbri, per i quali l'allenatore bianco-verde ha solo complimenti. Lucarelli è arrivato e ha comunque dato una grande scossa a questo ambiente, a questa squadra. La trovo una squadra che ha mantenuto i punti forti dell'anno scorso, puntellandoli con dei giocatori straordinari. E' la più bella squadra secondo me fino adesso, per come ha espresso il gioco, per come ha vinto, nel modo in cui ha vinto, mi è piaciuta tanto. Una bella notizia per tutto l'ambiente Monopoli intanto c'è. E' rientrato a casa dopo due mesi il medico sociale Bartolomeo Allegrini, ricoverato per lungo tempo causa Covid. Anche a lui scienza vorrebbe dedicare un bel risultato per avviare l'anno. E' un campionato di sofferenza, lo abbiamo capito fino all'inizio, dobbiamo soffrire, dobbiamo crescere, migliorare tutti gli aspetti, sia fisico che mentale.